Sì, è online il nuovo sito che ha un dominio fra l'altro abbastanza semplice perché è conferenzasindacivaldano.it insieme a miei colleghi abbiamo deciso di promuoverlo di fatto come uno strumento di trasparenza perché è possibile accedere a tutte le delibere che sono gli atti principali con cui opera la conferenza dei sindaci in più vi sono elencati i progetti che vengono sostenuti dalla conferenza e non solo perché ci sono diverse iniziative, si cerca di portare a conoscenza quelli che sono i nuovi servizi attivati tra le iniziative che hanno particolare rilievo, fra l'altro c'è il report sui dati oncologici che destra sempre giustamente un particolare interesse ecco, da oggi tutti i dati sono accessibili a tutti i cittadini all'interno del sito quindi un ulteriore strumento di trasparenza di cui ci siamo dotati e che invitiamo a consultare perché anche l'attività della conferenza è estremamente importante per quanto concerne le attività sociosanitarie